Bentornati in FS Economy, ci eravamo lasciati con il nostro aereo a cui ho cambiato in realtà il nome da ICRO-1 a ICRO-A in modo da avere tutte le lettere. È un Cessna 152 Aerobat, si trova al momento a Rotterdam e la nostra destinazione per il volo che porterà questo aereo alla sua nuova base è l'aeroporto di Bergamo. Oggi cominciamo a organizzare questo volo e a volare le prime tappe. Naturalmente l'aereo è troppo piccolo per fare tutto questo volo in un colpo solo e quindi approfittiamo anche per completare qualche missione in FS Economy. Allora, l'aereo dovrebbe essere a questo momento noleggiato da me e ha bisogno di riparazioni. Pigeo fix the aircraft. ci sono due possibili passaggi o local FBO o Rotterdam allora, facciamo questo ok abbiamo speso qualche soldo, penso 2023-611 view report 2341 aircraft repair perfetto a questo punto l'aereo dovrebbe essere in grado di volare e quindi andiamo nell'aeroporto a vedere i lavori disponibili quello che stiamo cercando è naturalmente un lavoro che ci avvicini all'aeroporto di Bergamo adesso anche senza guardare la mappa sappiamo che Rotterdam è a nord-ovest rispetto a Bergamo più nord che ovest quindi quello che possiamo prendere sono voli che vanno verso sud o voli che vanno verso sud-est e questo ci viene detto da questa bella freccettina me lo chiedevate nei commenti dell'anno scorso video ecco qua questo è il bearing ovvero la direzione dell'aeroporto di destinazione del lavoro rispetto all'aeroporto dove siamo di partenza quindi abbiamo queste due possibilità o andiamo a Budel che è a 61 milianautiche 134 134 di bearing o 141 di bearing 80 milianautiche prendiamo il volo più lungo in realtà che dovrebbe permetterci di fare più strada allora apriamo anche la scheda di questo aeroporto per vedere se da qui poi ci sono voli verso sud in realtà da qui non ci sono allora facciamo un'altra cosa guardiamo anche da Budel se per caso da Budel ci sono voli verso sud non ci sono succede molto raramente che ci siano voli molto intricati perché quasi tutti i gestori degli aeroporti quasi tutte le FBO organizzano i voli a partire da un hub e quindi molto spesso si parte da un aeroporto centrale come questo qua di Rotterdam e si arriva a un aeroporto che ha praticamente solo voli verso l'hub quindi ci va benissimo il volo da 80 milianautiche fino a Maastricht aggiungiamo diciamo add assignment to my flight perfetto my flight eccoci qua current load due passeggeri 150 kg zero cargo 256 allora a questo punto con zero cargo ci conta 26 galloni per allora volevo essere attenta allora questo è il massimo carburante e questo è il minimo fuel needed per andare allora 26 galloni in realtà lo sapevamo probabilmente qua ok 9 galloni allora noi abbiamo 9 galloni 6 galloni per arrivare all'aeroporto di destinazione che è a 80 miglia facciamo anche 7-8 e possiamo caricare fino a 26 con il carico attuale che abbiamo quindi sì verifichiamo che il cargo è 0 eccetera perfetto allora a questo punto noi possiamo andare a ragionare se ci conviene caricare più carburante adesso e fare il volo o se ci conviene fare il volo e caricare il carburante più avanti come facciamo andiamo semplicemente ad aprire i due aeroporti e andiamo a vedere cosa costa il carburante nei due aeroporti allora qui è 4,55 o 4,05 ok questo jet fuel non ci interessa 4,55 3,90 quindi il prezzo di ricaduta è più basso ce n'è abbastanza e 3,90 invece è il prezzo effettivamente dell'aeroporto di destinazione ok a questo punto andiamo ad aprire la mappa e cominciamo ho aperto little nav map e cominciamo a pianificare questo volo allora andiamo ad aggiungere un aeroporto di partenza andiamo a cercare il nostro aeroporto che è e allora un momento che devo fare un po' avanti e indietro e e hrd e hrd e lo aggiungiamo come aeroporto di partenza e come destinazione mettiamo appunto e hbk perfetto questo questa striscia gialla è il primo pezzo di volo noi dobbiamo arrivare fino a qua a questo punto direi che possiamo già pianificare tutto il volo questo volo sono 80 miglia dicevamo e sono e sono e sono e sono un'oretta di volo e quindi questa trappa penso che la riusciremo a fare in questo video probabilmente le successive no anche perché arriveremo senza carburante quindi di sicuro a maastricht ci fermiamo quindi ora proseguiamo la pianificazione del volo stesso discorso naturalmente non abbiamo non abbiamo aeroporti ovvero siamo arrivati a maastricht non abbiamo voli verso sud quindi andiamo a cercare gli aeroporti verso sud non abbiamo neanche in realtà aeroporti verso sud questi sono gli aeroporti più vicini sono molto vicini tutti e allora possiamo non avendo qui tra i aeroporti più vicini nulla andiamo a cercare aeroporti nelle 100 milianautiche da EHBK e andiamo a cercare naturalmente quelli verso sud magari andiamo a cercarmi allora questo è coblenza questo è for for in for for 74 miglia perché sto guardando anche naturalmente la direzione idealmente potrebbe essere meglio un perfetto sud qui ci sono un sacco di aerei che vanno di voli che vanno fino a lussemburgo che è solo 27 miglia quindi si può fare questa tratta e poi continuare verso lussemburgo allora andiamo a vedere qualche altra possibilità tipo questo qua questo è appunto for anche loro hanno dei voli da 27 sul lussemburgo questo è Bad allora Bad no Bad Sonnesberg ha due voli da 60 miglia verso Hangau France quindi direi che questo è meglio perché ci permette di fare dei voli che ci permettono di avvicinarci di più e soprattutto guadagnare qualche soldo in più quindi direi che dobbiamo andare da qui a EDRS e andiamo ad aggiungerlo sul piano di volo qui sto facendo naturalmente un piano di volo generale a coda perfetto ok qui cominciamo a vedere che sta prendendo forma da qui dicevamo che se ci sono ancora sperando questi passeggeri andiamo a LFSH che è Aguenau in Francia e qui non ci sarà anche qua nessun volo verso sud purtroppo ma ci sono degli aeroporti verso sud solo 26 km speriamo speriamo che questo aeroporto abbia poi altre altri allora a coda abbia qualcuno qualche volo ecco vediamo che ci stiamo effettivamente avvicinando come vedete non sono neanche tanti salti sono per il momento due ore e 14 di volo totale se ho dentro naturalmente l'aereo giusto per fare questi conti mi sembra di sì perché l'avevo impostato precedentemente su questo aereo da qui possiamo andare a l'aeroporto più vicino a sud è DT e DTL saltiamo dentro e fuori dalla Germania da qui però non ci sono voli verso sud quindi andiamo a vedere se c'è qualche altro aeroporto che punta a sud c'è questo LFST da qui non ci sono voli verso sud quindi anche da qua andiamo a chiedere aeroporti nel raggio di 100 miglia andiamo a prendere quelli a sud vedo che non c'è praticamente nessun aeroporto decente c'è sono tutti piccoli possiamo andare a EDTS c'è nulla EDTU nulla siamo sfortunati oggi eh scambio nulla 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 questo è praticamente è chiuso questo aeroporto Offensburg niente questo spero sia abbastanza grosso e ha qualche volo ha dei voli che ci portano in Svizzera perfetto quindi questo è un'ottima prossima tappa EDTM andiamo ad aggiungerla e come vediamo siamo praticamente arrivati quasi sulla verticale di di Bergamo tornando di qua possiamo vedere che da EDTM appunto possiamo prendere due voli noi in realtà qua potremmo anche cominciare a cominciare a prenotarci questi passeggeri ma in realtà scadono in tre giorni e io non penso di riuscire a fare tutto il volo in tre giorni se l'avessi fatto tutto in giornata effettivamente questo questa serie di video avrei già prenotato tutti questi passeggeri per essere sicuro di guadagnare qualcosa durante il volo e di avere sempre passeggeri dove si arriva dovendolo fare in più giorni più giorni reali non sto a prenotare anche perché scadrebbero quasi certamente L Grandshen se siamo fortunati da qui abbiamo dei voli che vanno a Malpensa perfetto ci va di fortuna quindi da qui andiamo a Malpensa e da Malpensa poi facciamo un trasferimento diretto a Lime oppure potremmo addirittura decidere di spostare la nostra base di operazione a Malpensa perché però in realtà Malpensa non ho un aeroporto custom per il simulatore quindi non è molto bello ok aggiungiamo qui ci si lamenta un po' per il fatto che ci schiantiamo sulle Alpi quindi da qui Lime il volo probabilmente il ramo più complicato Limch Alpensa e poi Lime perfetto e come vedete siamo riusciti a impostarci una bella rotta ok aggiungi un piano un allora non so se perché si è perso Malpensa ma lo andiamo ad aggiungere perfetto e destinazione Lime ok e come vedete siamo riusciti a farci un bel piano di volo per tutto questo giro e cominciamo quindi a volare sulla prima tratta quella che ci posta a Maastricht solo una cosa vorrei vedere se Maastricht ha qualche genere di radiofaro perché non avendo mai volato in questa zona io naturalmente posso agganciarmi a fare 80 miglia cercare di beccare questo fiume cercare di vedere ma ho paura di perdermi soprattutto magari atterro su questa base aerea che è esattamente nella stessa direzione e qualche chilometro qualche milianautica prima quindi andiamo a vedere se per Maastricht c'è qualcosa ok questo è 6,8 a 69 di prua perfetto 6,8 a 69 di prua con 108 e 6 di frequenza ma vorrei anche guardare un'altra cosa perché magari ho una bella radioassistenza sul nostro aeroporto e sto facendo tutto questo casino per niente e ho tipo questa il board di rotterdam eccolo qua quindi perfetto il board di rotterdam a questo punto utente è board rotterdam 110 e 4 e rtm ok rotterdam prua 322 distanza le nostre 80 milianautiche che ci dicevamo quindi noi in realtà usciamo da rotterdam sulla 322 al contrario 79 79 milianautiche e dobbiamo andare a 110 40 ricapitolando noi partiremo da rotterdam su questa frequenza seguendo questo radio faro a 322 in allontanamento fino eventualmente a questo secondo radio faro che possiamo andare a segnarci quando saremo più o meno in questa posizione quando saremo arrivati a come si dice 79 milianautiche dal radio faro di rotterdam dovremmo essere in vista dell'aeroporto di ma di ma di ma di ma ma stric speriamo che tutto ciò sia vero e ci rivediamo tra un secondo nel simulatore per cominciare a provare questo volo eccoci a rotterdam abbiamo già caricato il carico abbiamo qui vediamo il passeggero e qui vediamo il secondo passeggero rappresentato da un po' di carico accendiamo e vediamo anche che lo stato effettivamente del carburante è quello che ci aspettiamo apriamo la valvola diamo un po' di primer luci di navigazione strobe beacon non strobe taxi non ancora mixtor rich throttle cracked questo in posizione take off già e ok il motore è acceso dovrebbe piano piano allinearsi tutto si spera a questo punto possiamo accendere un po' le radio e questo è il nav 1 che dobbiamo impostare appunto a 110 e 40 ok dopo di che il bearing mettiamo 3 2 2 ok vediamo se l'ha preso 3 2 2 perfetto la pista è più o meno lì potremmo fare tutto rullaggio ma in realtà non mi sono non ho messo altri aerei quindi accendiamo le strobe e chiudiamo la porta e stacchiamo i freni e andiamo in pista ho naturalmente un po' di paura per la quantità di carburante che ho caricato ma dovremmo arrivare con un po' di carburante rimasto allora in realtà non sto volando completamente senza traffico sto volando solo col traffico di altri giocatori eccoci qua allineate la bella meglio c'è un po' di vento quindi decolliamo senza problemi nonostante il peso a questo punto possiamo effettivamente cominciare a puntare verso sud tiro sui flap e quando saremo effettivamente a vista cioè quando saremo effettivamente in rotta sulla radiale del vor mi metterò in pausa metterò in pausa questo video e ci vediamo tra un po' tra un po' guardate che belle le case olandesi tra un po' quando saremo in vista appunto di maastricht e comunque comincia a girare a sud est naturalmente non prendete il mio stile di volo per qualunque tipo di consiglio di volo reale perché come vedete ho accelerato parecchio le procedure sia di sicurezza sia proprio quelle di rullaggio e finalmente mi sembra che il vor stia cominciando a muoversi una volta centrato naturalmente ci basterà seguire per cos'è 15 14 e dovremo avere anche il dme eccolo qua 36 e dobbiamo arrivare a 79 quindi quando sarò attorno a 75 comincerò a guardarmi attorno diciamo che questo è un modo molto spartano e semplificato di usare gli strumenti ma effettivamente è un modo che dovrebbe essere sufficientemente efficace per il tipo di simulazione che sta facendo naturalmente questo non è il modo che può piacere a tutti e naturalmente in FSE non conta quello che si fa le procedure eccetera ognuno può giocare al grado di realismo che ritiene più consono FSE ci dà solo lo spunto per fare dei voli che altrimenti non faremmo tipo questo volo sopra queste bellissime città olandesi perfettamente riprodotte tra l'altro vediamo anche questi pali dei probabilmente delle antenne del cellulare che sono aggiunti con la mod antenne ciminiere eccetera e soprattutto anche tutte quelle gru bene siamo più o meno allineati ci salutiamo per il momento e ci rivediamo tra un po' quando saremo sarò in avvicinamento ok siamo a 75 milianautiche e mezzo come vedete sono salito parecchio perché non riuscivo sennò a prendere più il radio faro di rotterdam davanti a noi dovremmo avere l'aeroporto di maastricht che penso sia questo ora proviamo a scendere vediamo se ho ragione intanto mi guardo intorno se c'è qualcos'altro che non sto vedendo c'è una grossa struttura una grossa ciminiera una zona industriale abbastanza grossa e decisamente direi che quello è un aeroporto anche se non vedo ancora le luci quindi prepariamoci all'atterraggio a breve dovremmo perdere il radio faro di rotterdam perché scendiamo sotto la curvatura terrestre e quasi quasi più o meno dovrebbe a un certo punto dovrebbe muoversi anche il secondo il secondo ma in realtà non lo vedo muoversi siamo a 77.6 per ora siamo ancora in contatto con rotterdam e devo dire che questo volo sarà un po' questo Cessna in versione un po' più elaborata sarà anche che in Flight Simulator intanto abbiamo perso il radio faro e si sta allineando l'altro quindi siamo esattamente nella posizione dove vogliamo essere sarà appunto che 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 questo Cessna sia un pochino più realistico sarà che il simulatore ha aggiunto dei livelli più complicati di turbolenze ma devo dire che questo volo sarà anche che oggi c'è un filino più di vento oppure c'è un vento normale per l'Olanda ma devo dire che questo volo è stato più movimentato del solito come potete vedere abbiamo veramente poco carburante stiamo atterrando purtroppo temo col vento un po' in coda guardando la manica a vento anzi proprio di traverso sembra no proprio in coda che di traverso vabbè siamo alti la pista è lunga non fatelo mai ma direi che possiamo sopravvivere spero spero di non aver parlato troppo presto ok eccoci in qua intanto abbiamo flap full a questo punto si il vento è proprio traverso ok non uno dei miei migliori atterraggi come al solito che altro ho fatto molta confusione con i controlli con i controlli della visuale della visuale in realtà ok andiamo a girare l'aereo e usciamo di pista qua il volo finisce una volta che si tira il freno a mano sperando che tutto sia andato bene perché non ho voglia di ripetere un'ora di volo per niente si dai parcheggiamoci qua di fianco questo british spegniamo il motore ok in realtà l'ha logato sul sullo spegnimento del motore bene così allora ricordiamoci sempre che questo aereo salva lo stato in cui siamo quindi spegniamo le luci portiamo il trim più o meno a zero ok via questo spegniamo questo spegniamo questo spegniamo questo allora qui è tutto spento mi sembra sì qui qui la chiave è girata spegniamo l'alternatore spegniamo la batteria perfetto eccoci nuovamente in fs economy come vedete l'aereo ora è pronto a partire da maastricht se andiamo a vedere il log abbiamo il nostro volo che possiamo vedere cosa ci è costato zero allora rental amount 58 minuti zero logicamente di costi perché l'aereo è nostro carburante zero landing fee zero additional crew zero ground crew 161 additional cost 161 come vedete c'è costato nulla un distance bonus di 28 che in realtà ci stiamo pagando da soli ovvero ci sta pagando la nostra azienda la nostra società che è i wing perché ho fatto questo volo per me stessa e non per qualcun altro per il fatto di stare avvicinando questo aereo abbiamo tirato su 1481 non volevo vedere se mostrava anche il effettivamente i due lavori singoli completati payment log eccoli qua questi sono i ground fee per i due aeroporti e questi sono il pagamento per 1 e 2 e gli altri ground fee per allora questi si sono i due ground fee per il primo passeggero per il secondo passeggero questo è quello che ci hanno pagato e questo è quello che ci ha pagato appunto che i wing e direi che è tutto che i wing è naturalmente anche quella se noi andiamo a vedere invece il logo log per che i wing naturalmente vedremo 28 e 50 di pagamento e 2 e 341 adesso per diciamo stare più tranquilli sblocco questo aereo innanzitutto e vado a togliere per il momento il bonus perfetto il bonus è praticamente un bonus di quello che viene pagato per 100 milianautiche se non erro ma occhio da quello che mi hanno pagato è quello quando ci si avvicina all'aeroporto di destinazione mentre diventa un malus ovvero se ci si allontana dall'aeroporto dalla home base la persona che ha noleggiato l'aereo deve pagarmi il distance bonus se non me lo riporta indietro sostanzialmente bene per questo primo volo di ritorno è tutto e ci vediamo non penso non settimana prossima di nuovo con FS Economy perché volevo fare un video più particolare ma ci vediamo più avanti per continuare il nostro viaggio verso Bergamo alla prossima